Buongiorno a tutti, siamo i Giuggiolons Manfro e Mr. Krabs Volevamo nominare i giuggioloni ad onore, due persone in particolare uno è Fabrizio Ferretti e l'altro è Benagli, Tommaso Benagli e che entrano oggi, in questo istante, in questo momento, nel gruppone dei Giuggiolons però, ora come ora, vorrei farvi conoscere un giuggiolone che è veramente l'esempio del giuggiolone e lui si chiama il genio detto giuggiolone numero uno punta faccia, bande ruole, ma ascoltasi il genio, parlaci della tua giuggiolanità quanto sei giuggiolesco in questo periodo? Stato sversignato 15 anni su una frondina, 43 anni fa di Akan non si dicono le parolacce, potrei avere un figlio di 42 anni se fai i canti va bene, dopo questo giuggiolonesca cosa, vi saluto ah, volevo salutare anche una carissima, ma veramente carissima amica, grandonna della Lorenza che anche lei ci segue assiduamente e che ogni giorno commenta con i suoi bellissimi likes, ciao a tutti